La partita della disperazione per il Cosenza che fa squalifiche e infortuni deve rinunciare a cinque titolari. La partita della vita per il Napoli che ripropone Villa in difesa, Magoni a centrocampo e Graffieri al fianco di Stellone e Rastelli per un modulo a tre punte. Sulla panchina dei calabresi si rivede dopo sei mesi Gigi De Rosa al posto di Emiliano Mondoni che sono erato lunedì scorso l'arbitro e l'internazionale Messina di Bergamo, gara numero 61 in Serie B. La prima emozione la regalano i padroni di casa dopo cinque minuti di gioco, taglio di lentini per Zagnolo, pasticcia la difesa del Napoli, poi Giampaolo spreca sul Paolo. La risposta dei partenopei al sedicesimo, sceglie bene il tempo al De Gani per anticipare Rastelli lanciato a rete. Spingono i Silani e al ventunesimo Giampaolo sblocca il risultato, ci mette del suo Mancini lasciandosi sfuggere il pallone ma il vantaggio è ampiamente meritato. Esplode il Sambito, la gioia di Giampaolo, eccolo vedete, gradisce Gigi De Rosa. Il vantaggio mette le ali al Cosenze, il Napoli è come stordito, c'è una sola squadra in campo e al quarantacinquesimo c'è un fuoriprogramma che sintetizza la disperazione dei tifosi partenopei per quanto sta accadendo sul campo. Un falcino rosso riesce a scavaccare la rete di recensione e ad avvicinare Caruso per esortarlo probabilmente ad un maggiore impegno. Più bellicose invece l'intenzione di questo invasore, il secondo invasore, che arriva addirittura ad aggredire con un pugno Villa prima di essere bloccato e portato fuori dal campo. Accade anche questo. Le immagini montate da Mancini portano al terzo minuto della ripresa quando c'è questo tentativo di Stellone, Aldegani fa buona guardia. Ottavo minuto di gioco, conclusione angolata di Lantini, Mancini si salva in angola. Quindicesimo, proteste dei padroni di casa per questo presunto atterramento ai danni di Zaniolo, Messina fa proseguire. Si rivede il Napoli due minuti dopo con questo bel sinistro al volo di Montezini e Aldegani c'è. Ventiduesimo c'è il pareggio degli ospiti, gran tiro da fuori aerea di Ametrano, Aldegani respinge sul palo per Bonomi, è gioco facile spingere rete da pochi passi anticipando i difensori avversari. Protesta la squadra di De Canio al trentasesimo, manca l'intervento Aldegani, poi Stellone va giù sull'attacco di Maldonado per Messina, tutto regolare. L'ultima opportunità la confessione in Napoli, ci prova Sesa al quarto minuto di recupero, provvidenziale la respinta del portiere Rosso Blu e poi il fischio finale dell'arbitro. Il pareggio accontenta il Cosenza che comunque come dicevi tu deve continuare ancora a soffrire e con tutta probabilità serve poco al Napoli, ha tardato di sei lunghezze dalla regina, a tre toni dalla conclusione. È stata una bella gara, un tempo per parte, il Cosenza ci ha messo il cuore soprattutto nel primo tempo, ma non è bastato. Il Napoli nella ripresa le ha tentate tutte, ma probabilmente, anzi certamente era ormai troppo tardi, la linea torna a Maffei.